Devi preparare qualcosa per una festa o un buffet? Con nostro mitico bimbi puoi preparare una torta rustica e peperoni davvero strepitosa. Mettiamoci all'opera! Ingredienti Per la pasta 300 g di farina 75 g di vino bianco secco 75 g di olio extravergine di oliva Per il ripieno 250 g di peperoni gialli e rossi 2 spicchi d'aglio 30 g di olio extravergine di oliva 1 mozzarella 2 uova Sale e noce moscata quanto basta Versa l'olio, l'aglio e i peperoni tagliati a tocchetti nel boccale e rosola Aziona il bimbi per 10 minuti a 100 gradi, velocità 2, anti-orario Metti da parte Versa tutti gli ingredienti per la pasta nel boccale Aziona il bimbi per 1 minuto e 30 secondi, velocità a spiga Fodera una teglia con la carta forno Disponi la pasta con sopra i peperoni e cuoci in forno per 20 minuti a 180 gradi Pulisci il boccale e inserisci la mozzarella tagliata a tocchetti, le uova, il sale e la noce moscata Aziona il bimbi per 5 secondi, velocità turbo e 10 secondi, velocità 7 Versa il contenuto del boccale sulla torta e cuoci di nuovo in forno per 25 minuti a 180 gradi Consigli Se non hai la mozzarella, puoi sostituirla con panna da cucina Buon appetito e alla prossima videoricetta Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante Mi piace Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette Stai su Facebook, all'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina E ora, cosa vuoi preparare? Grazie